ciao a tutte e a tutti bentornati sul canale oggi faccio il video spacchettamento di campagna 14 quindi ho inviato l'ordine sabato proprio perché essendo questa la campagna di natale onde evitare di non trovare tutti i prodotti mi sono anticipata quindi questo è il primo ordine e un paio di giorni fa ho già mandato un altro ordine quindi sicuramente arriverà a inizio della prossima settimana devo sbrigarmi perché il cielo è completamente coperto quindi sicuramente a breve farà buio quindi siccome sono veramente tante cose cerco di essere più coincisa possibile allora prima di tutto vi faccio vedere il cartaceo quindi i cataloghi questa volta ne ho presi veramente tanti di campagna 16 con la nuova testimonial per avontù che georgia palmas ne ho presi 15 più i 6 che diciamo ci vengono dati in regalo in quanto platino ho poi preso i 10 blocchetti ordine questi qua perché rimando poi alle ragazze io sono rimasta proprio senza non ho più neanche un fogliettino c'è l'outlet questo qui che mi arriva sempre strappato ebbene sì questo è di campagna 16 quindi campagna 16 è valida dall 11 gennaio al 31 gennaio lavon per te eccolo qua con questa novità interessante programma segnalazioni da campagna 15 a campagna 18 vi come premio da 8 punti c'è un cellulare huawei quindi se siete già presentatrici e volete segnalare qualche vostra amica collezionando 8 punti potete ordinare cioè vi arriverà il regalo il telefono huawei quindi avete insomma tempo da campagna 15 16 17 e 18 per collezionare questi punti segnalazioni quindi se siete interessate iniziate a cercare tra le vostre amiche quella che potrebbe essere interessata a diventare presentatrice avon a sua volta la fattura e poi vi faccio vedere subito subito quella che era diciamo l'opportunità di acquisto per le presentatrici era l'opportunità di acquistare un set un set di tazzine l'ho aperto dalla parte sbagliata della brandani a 8 euro e 50 di questa linea batticuole sono quattro tazzine da caffè così e così molto carine questa volta voglio partire dal non cosmetico mi hanno ordinato un paio di jeggings quindi diciamo finta pelle non si riesce a vedere com'è tramata così taglia 44 46 mi hanno poi ordinato il set e da bambina un minime c'era l'opportunità acquistando il mascara lux di prendere lo quattro tazzine a 12 euro e 99 se non ricordo male che è questo non si vede benissimo al collo in finta pelliccia si può staccare un pantalone quello classico nero della body illusion 48 50 e poi vi faccio vedere questo che ho preso per matteo il pigiama quello star wars questi sono i pantaloni fatti così questa taglia era non ricordo sette otto anni e questa è la maglia eccola qua le mie anteprime ve le faccio vedere dopo quindi passiamo al cosmetico abbiamo un set individual blu che era questo col profumo il deodorante e il deodorante roll on con questa pochette diciamo blu allora poi ho quattro matite labbra della glimmer stick che erano in offerta a 250 in true red due matite glimmer stick eyeliner abbiamo il starry night black brown queste qua queste per gli occhi poi un mascara lux che era se non sbaglio a 450 e dava la possibilità di prendere lo shale quello di prima poi abbiamo un fondotinta mark in colorazione nude uno smalto pastel pink della linea avon true questo lo faccio vedere che questo rosa qua un correttore light medium della mark un blush luminous halo glow della linea avon true nell'edizione quella edizione natalizia poi abbiamo un rossetto plum illusion della dei matt quelli delicati che è questo colore qua poi ho un correttore fair della color trend e un rossetto kiss and go sempre color trend ruby poi ho due rossetti perfect rose e frisky red sempre della color trend sempre della color trend e ancora della color trend un rossetto matte wild berry emollienti labbra della von care in edizione natalizia questi qua praticamente c'era il kit con vari prodotti dentro con questo cestino in forma di cuore oro rosa molto carino allora lo smalto questo qui in soft pink va insieme al profumino questo qui piccolino essenz romantic perché è un kit regalo che praticamente arriva con la sua piccola bustina regalo così quindi proprio per confezionarlo e lo stesso questo profumino qui che è secret fantasy con questa confezione e il rossettino ruby che è quello che vi ho fatto vedere prima che è questo qua quindi anche questo arriva questo set a 7,99 con il suo sacchettino regalo ecco allora mi hanno ordinato questo set qua e praticamente c'è il cestino quello che vi ho fatto vedere nel cestino va questa della planet spa che è praticamente un latte per il corpo all'olio d'oliva un crema idratante della footworks il soft pink e questa qui questa acqua profumata pera e peonia tutto questo va nel cestino poi c'era un altro set a 7,99 che era la spazzola questa qui che diciamo si ripiega con il siero per le punte secche questo così mi sono stati ordinati due fermagli questi qui aspirate non so se si vedono eccoli qua un'acqua per sieve acqua profumata questa da campagna 13 era 2 euro dell'avon care la lozione al burro di cacao io poi adesso vi faccio vedere tutto quello che ho preso io allora ho preso ben 14 di queste bagnoschiuma natalizi che sono al cioccolato e frutti rossi siccome mi piace tantissimo questa profumazione ne ho prese 14 da regalare alle amiche diciamo quelle che insomma ogni tanto mi fanno l'ordine e quindi regalerò ad ognuna di loro una di queste e poi ho preso il set questi venivano se non sbaglio 4 euro prendendo due di questi cioè due prodotti della naturals ho preso lo shampoo il 2 in 1 quello macadamia e aloe e lo spray quello per i capelli diciamo quello lo spray profumato per i capelli poi ho preso 5 campioncini di fondotinta cream natural mi sono arrivati no questi li ho presi io mi sembra non mi ricordo più ruby kiss si li ho presi io sono due campioncini di rossetto ruby kiss e poi mi sono arrivati dei campioncini di profumo perché ho preso 15 cataloghi quindi mi sono arrivati dei campioncini di rossetto e alcuni li avevo anche ordinati io infatti sono un po' misti far away infinity poi ci sono questi nuovi surreal sky quello che uscirà in campagna 15 e insomma sono un bel po' di campioncini eccoli qua tutti i campioncini di profumo per quanto riguarda invece i prodotti sul catalogo di natale l'insetto il supplemento diciamo di natale ho preso per me il guanto questo qui in bambù per i massaggi quello che dicevamo l'altra volta anticellulite eccolo qua vi faccio vedere com'è il guanto è questo praticamente penso che si possa prendere così e si massaggia è molto diciamo esfoliante è però una cosa non troppo spessa e sempre dal supplemento mi sono presa questo qui che è sempre della glow eccolo qui è praticamente in microfibra e serve per diciamo pulire magari qualche sbavatura del trucco ho preso poi la spugnetta quella lì per il trucco vi la faccio vedere eccola qua molto carina eh il silicone eccoli qua i pennelli arcobaleno un ricorno come li volete chiamare ecco qua morbidissimo eh non è molto grande però è veramente morbido eccolo qua l'altro eccolo qua potevo non prenderli per le anteprime vi faccio vedere il nuovo detergente per pelli normali da normali a secche yogurt e miele dell'Avoncare che è questo qui e lo stesso la crema mani eccola qui per pelli da normali a secche sempre miele e yogurt e poi il diciamo emolliente labbra balsamo labbra quello che sarà in uscita in campagna non mi ricordo se 15 o 16 che è questo qua questo è quello con i brillantini eccolo qua lo faccio vedere così ci sono tipo tutti questi glitter questo è l'applicatore è diciamo proprio un burro di cacao diciamo lucida labbra praticamente non si vede si è praticamente un emolliente ho poi preso sempre in anteprima questo reggiseno questo reggiseno ci sono preso la misura giusta praticamente questo qua che è senza ferretto vi dirò che è pure imbottito eh non pensavo fosse imbottito è fatto così tipo top questa è la taglia 44 no 4850 questo è una 4850 e poi sempre in anteprima mi sono presa la maglia ho preso sempre 4850 guardate che carina con questa manica trasparente eccolo qua molto carina penso mi vada bene ma doveva essere un video breve invece è stato un video lunghissimo e spero che questo video spacchettamento vi sia piaciuto se avete qualche richiesta da fare su questi prodotti non vi ho fatto vedere l'altra volta ho fatto un piccolo ordine soltanto di candele che erano sull'outlet di campagna 12 ma voi lo trovate adesso nel supplemento di catalogo e sono queste candele qui credo fossero dello scorso anno ne ho presa sia per me ne ho prese altre insomma ho preso 7 di queste candele e sono fatte così profumazione molto buona e ci sono gli sticker praticamente per personalizzare la candela io ho preso la F però è carino anche questa scritta qua oppure anche il cuore devo ancora personalizzarla e quindi ho preso 7 di queste candele anche questo come regalo di Natale è veramente carino lo trovate sul supplemento a 4,99 la confezione si presenta praticamente così molto carina mi sembra di avervi fatto vedere tutto e come sempre se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se non siete iscritti ancora iscrivetevi al canale un saluto a tutte ciao 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 ciao